Il suo nome Ottavia è senza glutine e con un diametro di oltre 40 metri ed è entrata nel Guinness dei primati grazie all'abilità dei record pizza man capitanati da Doviglio Nardi. Guardare, dopo minuziose misurazioni e la certificazione ufficiale dei giudici del World Guinness Record, Ottavia è passata anche al giudizio del palato del pubblico presente, mentre la parte non consumata è stata data in beneficenza grazie alla fondazione Banco Alimentare.